Questo progetto di legge dice che si mettono d'accordo i presidenti della Camera e del Senato. Oh che bella cosa! Ma se i presidenti della Camera e del Senato non si mettono d'accordo? Ma di solito i presidenti della Camera e del Senato sono dei partiti diversi. Insomma l'esperienza ci dice questo. Posso essere anche dallo stesso partito, in un paese litigioso come il nostro è più facile il disaccordo che l'accordo. Insomma è difficile dire che si mettono d'accordo. E se si mettono d'accordo ci vuole tempo, perché se non sono d'accordo ci vuole tempo che si mettono d'accordo. E se alla fine non riescono proprio a mettersi d'accordo, come si fa? Si va alla Corte Costituzionale e allora c'è un anno e mezzo di più per ogni legge di andare alla Corte Costituzionale. Signori miei, questa è una barzelletta, ci prendono per scemi. Quale è l'abbreviazione delle leggi? E poi però c'è quell'osservazione ultima che vi ho fatto. Secondo me quello che interessa di più è la modifica della garanzia costituzionale, della revisione costituzionale. Perché l'obiettivo che sembra che si voglia raggiungere è quello di cancellare tutti i diritti che sono stati già cancellati da leggi ordinarie ma incostituzionali. Perché guardate che dopo l'avvento della Costituzione non c'è più solo il concetto di legalità senza aggettivi. Si può parlare soltanto di legalità costituzionale. C'è di conformità di atti e comportamenti a una legge ordinaria conforme però alla Costituzione. Quindi noi, popolo italiano sovrano, possiamo benissimo impugnare tutte queste leggi. Sblocca Italia, Jobs Act, la buona scuola, la riforma della pubblica amministrazione con tutto quello che contengono davanti alla Corte Costituzionale. Ci abbiamo un'arma forte in mano, quindi si vede che è proprio l'obiettivo più importante proprio quello di evitare che queste leggi vadano al vaglio della Corte Costituzionale. Allora a questo punto dicevo, per capire bene le cose, bisogna vedere perché, a chi giova, qual è il pensiero che sta dietro. Guardate che senza che noi ce ne accorgessimo, nell'immaginario collettivo è penetrato una idea economica sulla quale si lavora dal 1700, diciamo così, insomma, quella del neoliberismo. Voi sapete che si era affermato nel 1700 la teoria dell'asse FR. Il mercato è talmente magico che trova gli equilibri da solo. Poi gli stessi fisiocrati, gli stessi economisti di questo orientamento avevano constatato che l'asse FR non dà nessun frutto. Allora si sono ribattezzati neoliberisti. E una prima esperienza del neoliberismo si è avuta proprio nella prima grande depressione economica, quella degli anni 30, quella di Roosevelt. E da Roosevelt furono sentiti gli esponenti del neoliberismo, il neoliberismo di Friburgo, quello dell'Austria, quello della scuola di Chicago e così via dicendo. Diciamo, non le piace questa riforma? No, io tendo a fare molto di più. Tendo a dire non solo che questa riforma non piace, ma questa riforma è a favore del neoliberismo, del pensiero neoliberista ed è contro gli interessi del popolo. Questa riforma è una cosa che non viene detta, ma che secondo me adesso la nostra azione deve cambiare strada. Abbiamo dimostrato, e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, abbiamo dimostrato che questa riforma non piace, non può piacere perché è inconcludente, è sballata, è contraddittoria e tutto. Ma io voglio sapere a chi serve. Allora per sapere a chi serve io mi vado a leggere il pensiero economico. E cosa trovo nel pensiero economico? Che sin dalle origini, diciamo dal secolo dei Lumi, si confrontano, si confrontano alla teoria del neoliberismo e poi in età più recente la teoria keynesiana. La teoria keynesiana è una teoria secondo natura, secondo la quale si parte dalla base, perché si parte dalla base sociale che è una piramide, si parte dalla base distribuendo ricchezza ai lavoratori. Distribuendo ricchezza ai lavoratori, i lavoratori vanno ai negozi, i negozi vanno alle imprese, le imprese assumono, producono e così si crea un circolo virtuoso. Secondo l'opposta teoria, che addirittura risale alla CFR, e secondo l'opposta teoria è l'inverso. Ci vuole l'accentramento della ricchezza e quindi non ci vuole più la circolazione della ricchezza e quindi bisogna risparmiare sui lavoratori. E quindi il costo del lavoro è un costo che incide sull'impresa e che va abbassato il più possibile. Il lavoratore deve essere pagato il meno possibile, la ricchezza circola il meno possibile e quindi si è condannati a morte tutti quanti. È cambiato, si sono creati adesso due... Guardate, è molto importante questo, perché queste sono le cose da sapere e che il neoliberismo ci nasconde. Perché il neoliberismo, divenuto ordo-liberismo, si nasconde e usa tutte le terminologie e tutti i sistemi economici. E il neoliberista appena si attacca sul cuore del neoliberista si sente toccato perché è come una fede, è diventato una specie di cosa. Il neoliberismo dice la verità, non si tocca. No, noi dobbiamo dire la verità e avere coraggio di dirla. I nostri governanti sono dei neoliberisti e non li ho insultati, sono dei neoliberisti convinti. Soprattutto Monti, che è stato discepolo di Andreatta, a sua volta neoliberista, che fece la prima stupidaggine di questo mondo. Nel senso che disse Andreatta a Ciampi, Andreatta il ministro del Tesoro, in una lettera del febbraio del 1981, dice che la Banca d'Italia è sollevata dall'obbligo di acquistare i buoni del Tesoro rimasti invenduti. Ciampi fece il suo gioco e il governatore disse va bene, ma voi sapete i buoni del Tesoro venivano emessi dal Tesoro, cioè dallo Stato, con l'indicazione del tasso di interesse, di solito il 4%, e molti non venivano venduti. Allora la Banca d'Italia li acquistava, stampava moneta e noi andavamo avanti. Invece da quel momento ci dovemmo rivolgere ai mercati e quindi pagare i tassi di interesse che ci sono stati imposti dai mercati. E quindi a questo punto sono schizzati avanti i tassi di interesse. E tutto il debito pubblico è pari agli interessi che noi abbiamo pagati impostici dal mercato. Lei ne fa una lettura economica, però se io dovessi fare un contraltare dicendo faccio parte di una generazione più giovane che dice mi sono visto erodere molti diritti nonostante la presenza di questa Costituzione che ci piace molto, che ci dà molte garanzie, quindi io le chiedo un po' provocativemente. Non c'è quindi nulla che dovremmo modificare nella nostra Costituzione? Per me la Costituzione va bene, però mi lasci dire che la sua domanda deve essere io non ho più diritti, ma chi me li ha tolti questi diritti? Io le sto spiegando chi li ha tolti i suoi diritti e lei deve sapere qual è la causa per cui lei non ha diritti. Io ho goduto dei miei diritti, io non protetto da nessuno, facendo parte anche di una famiglia di livello sociale non altissimo, io sono arrivato alla Corte Costituzionale proprio perché ho avuto un governo democratico che lei purtroppo non ha e io le voglio spiegare, dati i miei capelli bianchissimi di fronte ai suoi folti e colorati io le voglio spiegare per quale motivo lei sta senza diritti e lei lo deve sapere perché mi deve aiutare a colpire nel cuore e a far capire a tutti perché i giovani oggi sono privi dei diritti fondamentali a cominciare dal diritto fondamentale al lavoro che è il fondamento della Costituzione. Chi ci ha tolto i diritti è, prima bisogna vedere il pensiero, come dice Mazzini, pensiero azione quindi prima bisogna vedere il pensiero, è il pensiero neoliberista che è il contrario del pensiero chiesianesimo quindi noi abbiamo di fronte a noi due sistemi economici un sistema economico chiesiano che ci ha consentito proprio per il fatto che parte dalla distribuzione della ricchezza alla base a tutti i lavoratori, lei compreso, a tutti i lavoratori e adesso non ci arriva più a tutti i lavoratori e poi da questo la circolazione della moneta, la circolazione della ricchezza è la produzione di beni reali cioè il mercato serviva per seguire questo processo finanza, cioè chi c'è i soldi investimento in fattori produttivi occupazione, beni reali profitto cioè chi aveva soldi aveva il modo onestamente di avere la ricompensa del suo lavoro e poi quella cosa enorme di far lavorare a tutti guardate che l'articolo 41 della Costituzione è un esempio mirabile di qual tipo di società economiche hanno scelto i nostri costituenti l'articolo 42 dice l'iniziativa economica privata è libera questo è un fondamento perché è guai se noi dicessimo come il partito comunista sovietico all'economia ci pensa il governo vado a scherzare avete visto che sfarcello nei paesi dell'est e anche gli effetti sulle persone insomma che si sono avuti l'economia l'iniziativa economica privata è libera non può essere in contrasto con l'utilità sociale non può recare danno alla sicurezza alla dignità alla libertà umana e questo è il centro del discorso questo è il centro del discorso nell'ambito di un sistema economico sano fondato sulla natura ben descritto da Keynes e seguito sul consiglio di quella grandonna che era la moglie di Roosevelt Eleonora Roosevelt e seguito quindi da Roosevelt e che ha concesso a noi italiani 30 anni di benessere nel dopoguerra noi eravamo la quinta potenza economica poi insidiosamente da lontano io vi ho detto il primo atto che io individuo nella mia ricostruzione il primo atto è quella lettera famosa eccetera e poi ci sono state mille cose ad esempio in questo quadro si inseriscono tanti avvenimenti difficili da provare ma che comunque sono storie sono scritti nella storia e non sto lì io ad illustrarli abbiamo avuto dei nemici la morte di Enrico Mattei è stato un fatto la morte di Moro è stato un altro fatto poi non possiamo fare delle detrologie noi dobbiamo attenerci però i fatti sono stati questi cioè l'Italia è stata combattuta e chi c'è dietro questa voglia di toglierci il benessere che c'eravamo conquistati con il lavoro del dopoguerra con la ricostruzione dalle macerie che io ho visto perché sono nato prima dalla seconda guerra mondiale che cosa c'era? c'era proprio il convincimento che la ricchezza andasse distribuita che fosse necessario l'intervento dello Stato su grandi opere che fossero a servizio e nell'interesse del popolo e non nell'interesse delle multinazionali invece è venuto fuori disgraziatamente c'è sempre qualcuno che deve rompere le uova nel paniere esce fuori un Milton Friedman del 1960 che scrive un libro la storia della moneta americana dal 1867 al 1960 dove rivaluta il neoliberismo le lobby americane non volevano altro ci si sono buttati sopra innanzitutto ha voluto fare il bello Pinochet e ha privatizzato tutto nel Cile riducendo in miseria i poveri cileni poi ha voluto seguire questa tesi la Thatcher aveva molti amici da ricompensare e ha privatizzato tutto in America se voi vedete in America lo dicevo pure stamattina se voi andate a Londra non mi accorgete di malesseri insomma una città che vive bene vive in tutti gli agi eccetera ma se andate fuori di Londra vi accorgete che in Inghilterra c'è molta miseria molta molta miseria se andate negli Stati Uniti vi accorgete che c'è molta miseria se andate in Cina vi accorgete che come del resto succede a Prato i cinesi lavorano in condizioni disperate da 8 anni fino a 43 44 anni quando sono buttati via lavorano dalle 7 di mattina alle 21 o 22 di sera con un quarto d'ora per mangiare ritengono che questo sia giusto questa è l'attuazione pratica del neoliberismo o uno è autoimprenditore oppure è uomo merce è uomo merce noi ci troviamo di fronte all'attuazione di questo secondo meccanismo secondo questa seconda ideologia quindi secondo lei la carta come adesso è un argine a che questo si dispieghi compiutamente anche da noi la carta costituzionale siccome pone i diritti fondamentali inviolabili dell'uomo è l'ultimo ostacolo che il pensiero neoliberista tenta di superare non solo ma lei saprà bene che oltre ad agire sulle carte costituzionali la finanza le multinazionali e le banche che poi agiscono anche in Europa il buy-in per esempio io deposito i soldi gli amministratori sprecano i soldi della banca donandoli offrendoli ai propri amici e chi paga paga il depositante mi pare una cosa importante il six act il six act di altre cose di questo genere quindi in Europa non è che ci danno ma questo avviene in tutto il mondo in tutto il mondo si va delineando una posizione in cui c'è un nuovo medioevo dove non c'è più gli imparatori feudatari eccetera dove dominano quelli che sanno agire nel mercato nel mercato i primi soggetti che trovate sono quelli della malavita poi vengono subito quelli malavita organizzata poi vengono subito gli speculatori finanziari e vi devo dire come agisce il mercato perché questa è l'idea ma poi perché questa idea è stata raccolta dalle lobby e qual è il meccanismo per cui noi siamo messi con le spalle al muro e oggi ci troviamo addirittura con una carta costituzionale che ci viene imposta di ratificare con il nostro sì il meccanismo che usa il neoliberismo passa in tre punti strategici innanzitutto creazione della ricchezza dal nulla la finanza creativa ha detto Tremonti la finanza creativa guardate che nel momento le banche che poi sono state tutte privatizzate poi vi parlerò delle privatizzazioni il primo punto del meccanismo in cui il pensiero neoliberista cioè quello che vuole pochi ricchi molto ricchi tutti i poveri che servono i ricchi evitando la circolazione della ricchezza la circolazione della moneta quello che stiamo vivendo ormai da una ventiana d'anni dagli anni 80 in poi stiamo vivendo questo sempre peggio sempre peggio sempre peggio poi ci vengono a dire aumenta l'occupazione 0 0,1% no non è vero perché poi da quest'altra parte abbiamo c'è più zero ma ci stanno a prendere in giro tutti quanti e guarda che queste sono cose studiate c'è l'ordoliberismo una specie di scuola di ROP che è la quale dice noi dobbiamo essere attendisti arrivare di momento in momento ha sentito dire Berlusconi tante volte meno Stato è più mercato privatizzare è bello sfruttando il fatto per esempio che i dipendenti pubblici non lavorano e ora io sono stato nell'amministrazione è vero ci sono moltissimi dipendenti pubblici che andrebbero cacciati a pedate dall'amministrazione pubblica perché sono rei correi di questa situazione ma ci sono molti dipendenti pubblici di quale bisogna togliersi il cappello perché lavorano per tutti non so fare bene la media ma credo che si tratti di un 10% che lavora e di un 90% che non lavora e poi si tratta molto di organizzazione con tutti i malanni che ci sono ti raccomandati ti raccomandati certo esatto comunque voglio finire andando verso voglio finire questo discorso il meccanismo qual è perché il mio lavoro l'ultimo che ho pubblicato gli inganni della finanza leggendo molti articoli molti libri eccetera io credo di aver capito anche come funziona il meccanismo della finanza perché non basta l'idea tu dici questa è un'idea io vi parlo di un'idea attuata il primo punto dell'attuazione è creazione del denaro dal nulla la banca nel momento in cui dà un credito immediatamente in virtù di una legge illegittima emette un titolo commerciabile che sarebbe vietato addirittura dal codice civile perché il codice civile quando parla dei titoli commerciabili dice che i titoli commerciabili possono passare di mano in mano o attraverso la consegna materiale del foglio della cartolarizzazione adesso si fa il bip sul computer ed è cambiato pure questo o con la girata tutti conoscete la girata della segna per me pagate al signor tal dettaglio eccetera o mediante il cambiamento dell'escrizione nei titoli nominativi quindi i titoli di credito sono trattati dal codice civile con molta severità e nella relazione al re del ministro proponente del codice civile c'è scritto la commissione che ha redatto il codice civile del 1942 siamo sotto lo statuto a Bertino è stato molto attento nell'evitare che il titolo di credito circolasse come moneta perché una moneta che nasce dal nulla è un aggravio enorme perché poi i titolari di quelli vanno cercando il corrispondente del bene dove lo trovano perché è nulla dal nulla viene nulla non viene qualcosa quindi la finanza creativa è una menzogna formidabile e la legge che l'ha approvata è una legge criminogena professore io ho l'amaro compito di portarla agli ultimi 10 minuti di questo dibattito le chiederei no il momento che devo finire questo discorso 5 minuti ho detto solo il primo punto il secondo punto del meccanismo è la privatizzazione le privatizzazioni per carità amico mio sono le privatizzazioni avete notato che nel 1990 in Italia si sono privatizzate le banche pubbliche cioè le banche nostre i soldi nostri di tutti noi sono stati dati a uno soprattutto Unicredit e Banca Intesa sono adesso sapete che la Banca d'Italia benché mantenga l'iscrizione ente pubblico è una banca privata volete la prova nonostante l'iscrizione ente pubblico quando si è fatta la rivalutazione dei diritti dei beni immobili appartenenti alla Banca d'Italia 7 miliardi e mezzo sapete a chi sono andati quei soldi alle 50 banche private che formano l'assemblea della Banca d'Italia banche private banche private cioè a privati soldi nostri a banche private quindi il governo i governi che si sono succeduti i parlamenti che si sono succeduti ci hanno spogliato di beni nostri di beni demaniali di beni poi lasciamo stare tutte le questioncine la nave britannia eccetera eccetera comunque decreto legge del 1992 privatizzazione dei gioielli di famiglia con un decreto legge urgente urgente con decreto legge si è privatizzato l'Eni l'Ina l'Enel e l'Iri stabilendosi per l'Iri una vendita spezzettata nel tempo per cui tutte le industrie non ce le abbiamo più le ferrovie dello Stato sono in mano privata i trasporti sono nelle mani dei privati e sono società internazionali che hanno adesso agiscono persino gli alberghi ci sono i star hotel ci sono delle pompe aspiranti che prendono i profitti in Italia e che portano i soldi all'estero per cui noi siamo in una completa povertà e se ciò non bastasse un'azione di grande cavalleria è stata fatta dal nostro cavaliere il quale essendo cavaliere del lavoro non poteva fare diversamente insieme col suo amico Bossi ha fatto il famoso federalismo demaniale sapete che significa federalismo demaniale significa che il demanio idrico le sorgenti il demanio marittimo cioè a dire le spiagge il demanio minerario e il demanio culturale cioè gli immobili artistici e storici che sono demaniale quando sono arrivato all'università mi hanno spiegato che demanio significa un bene che appartiene a tutti e che pertanto è inalienabile inusucapibile e inespropriabile questi beni nella liberalità del cavaliere sono stati tolti a tutti noi sono stati trasferiti in gestione alle regioni le quali li valorizzano e li vendono a privati ed è stato venduto ai privati tutte le isole della Laguna Veneta l'isola più bella dell'arcipelago della Maddalena l'isola di Budelli di recente è stata venduta l'isola più bella della Sicilia che si chiama proprio Isola Bella sono state vendute o sono in vendita questo non lo so dire il monte delle Tofane il monte Cristallo sopra Cortino d'Ampezzo qui vicino a noi è stata venduta la zecca monumentale dove ci stanno facendo i cinesi un grande albergo i beni artistici e storici se vi leggete un po' la pagina di Montanari di Tommaso Montanari è un elenco enorme di beni a Firenze in tutta Italia di beni artistici e storici che sono demonio nostro sono venduti e pensate che su tutto questo il governo il governo di Tremonti ha fatto anche la cartolarizzazione degli immobili da vendere cioè dire io mi faccio e metto delle obbligazioni prendo subito i soldi e poi quando vendo i beni pago le obbligazioni e se i beni non si vendono resti con l'obbligazione in mano come è successo del resto poi insomma comunque il progetto di Monti di vendere tutta l'Italia con 2000 miliardi di ricavato è fallito sapete c'è stata varia posizione ma ciò nonostante noi continuiamo a vendere e viviamo sul capitale che viene che viene continuamente svenduto non solo ma poi ne parlavo stamattina cosa importantissima tutto questo è contro l'articolo vari articoli della Costituzione innanzitutto l'articolo 42 della Costituzione perché noi riteniamo questo è un chiarimento da fare noi riteniamo che lo Stato sia proprietario di questo bene lo Stato comunità la Repubblica è titolare di questo bene quando diciamo Stato persona giuridica intendiamo la pubblica amministrazione la pubblica amministrazione gestisce questi beni non li può vendere questa è una specie di appropriazione in debita è roba da giudizio penale questo è stato fatto con legge e noi queste leggi li possiamo portare davanti alla Corte Costituzionale le possiamo portare tutta l'internazionale e questo è il secondo elemento del meccanismo ma poi in una visione dell'economia generale nella quale anziché fare il percorso finanza prodotto investimento prodotto finanza quindi cose positive quindi diciamo di fronte a un sistema economico produttivo che ci ha provocato 30 anni di benessere si sta sostituendo e ormai dagli inizi degli anni Ottanta stiamo molto avanti nelle svendite di tutto e noi non ce l'accorgiamo pensiamo che siamo tutti addormentati eccetera si sta sostituendo un altro sistema economico che è un sistema economico fondato sul percorso finanza finanza cioè io compro dei prodotti finanziari cioè compro delle cartolarizzazioni che più o meno ho addirittura dei debiti trasformati in titoli commerciabili che sono i derivati e sapete quanti derivati stanno nel mondo secondo una statistica del 2010 non c'è ancora una statistica più recente 1,2 quadrilioni di dollari 20 volte il PIL di tutti gli stadi del mondo la finanza ha i piedi di argilla riprendendoci i nostri poteri sovrani potremmo farla crollare con un semplice atto di legge nostro anziché essere asserviti e fare una costituzione al loro servizio perché a questo punto a questo punto vi rendete conto che il percorso è svelato e che questo mio discorso per cui mai mi chiameranno in televisione mai mi faranno parlare mi faranno parlare in buio il mio discorso è un discorso che colpisce il cuore del problema e che secondo me deve essere guardate non voglio assolutamente è frutto di lettura semplicemente frutto di lettura di centinaia di libri perché non è una cosa che si capisce immediatamente ho dovuto leggere articoli su articoli due anni di lavoro concretati in un piccolo libro della Donzelli di 180 pagine per renderlo comprensibile a tutti e dalla parte mia scusate se è poco io ho un uomo come Francesco Papa Francesco e un altro uomo economista come Stiglitz che è un neoliberista convertito che adesso sta scrivendo un libro contro il neoliberismo io aspetto che lo traducano in italiano perché non ho mai voluto imparare l'inglese e vi dico dunque che a questo punto anche tutto quello il discorso su Renzi sul nostro governo concludo lei che si chiama? Andrea caro Andrea no concludo perché mi pare di aver detto l'essenziale del discorso questa volta noi andiamo a dire no non solo perché come magistralmente ci ha spiegato Zaghebreschi e tanti altri costituzionalisti si tratta di una deforma proprio di una scrittura sballata dal punto di vista giuridico cioè un professore di diritto come un po' ha fatto l'altro ieri Zaghebreschi di fronte a quel compitino presentato dallo studentello gli mette lo caccia a calci dalla cattedra dall'università dico tu non sei degno di fare l'esame di diritto costituzionale tu non capisci niente e mi è piaciuta la battuta quando Zaghebreschi ha detto di fronte a Renzi noi costituzionalisti e Renzi ha detto ma io non sono un costituzionista la risposta è caspita lei ha modificato la costituzione non è non è un costituzionalista quindi di fronte a queste persone io spero che il mio lavoro non sia stato inutile perché dà la spiegazione a chi giova questa deforma costituzionale giova alle multinazionali e alle banche le quali sono arrivate al punto veramente di toglierci di mandarci a morte quando ero ragazzo noi eravamo alleati degli americani e io avevo avuto una formazione molto italiana diciamo così mi dava fastidio però mi rendevo conto c'è la bomba atomica ce l'hanno la Russia e l'America che vogliamo stare con i russi o con gli americani stavamo con gli americani abbiamo pagato abbiamo dato le nostre basi aeree ma adesso gli americani non sono più quelli che pensavo io una volta io sentivo Eisenhower pensate quanti anni c'ho primo presidente del dopoguerra degli Stati Uniti perché aveva vinto la guerra e io dicevo Eisenhower è il rappresentante del popolo degli Stati Uniti oggi devo dire che Obama che peraltro fa bella figura come ha osservato il Cavaliere perché è anche abbronzato oggi Obama non rappresenta il popolo il popolo americano non è rappresentato rappresenta le lobby gli interessi delle lobby e sono le lobby che sostengono i governi anche dell'Occidente sono le lobby che fanno che fanno la campagna elettorale e poi l'asservimento della politica e della legge alla economia è una cosa veramente drastica noi siamo veramente ad una svolta epocale davanti ai nostri occhi e di fronte all'esame di due sistemi economici uno che ci ha portato al benessere l'altro che ci porta alla miseria al di là c'è il burrone definitivo quello di un ritorno al medioevo e siccome nella mente delle persone c'è quello che noi ci mettiamo io sono rimasto impressionato pochi giorni fa quando passando a Firenze sono passato per Prato e ho visto dei capannoni dove dormono 80-90 cinesi che lavorano come dicevo prima dalle 7 di mattina alle 21 di sera con un quarto d'ora per mangiare e sono rimasto impressionato non solo per la pena che mi facevo ma soprattutto per il fatto che questi cinesi non si ribellano al fatto dei loro capoccioni viaggiano cinesi come loro viaggiano in macchine lussuose la più piccola è la Maserati e hanno comprato le ville più belle che stanno sui colli fiorentini quindi il pericolo è che si instauri un nuovo medioevo noi per uscire dal medioevo abbiamo avuto il secolo dei lumi abbiamo avuto l'illuminismo abbiamo avuto la rivoluzione francese e ce ne abbiamo messo per uscire fuori da questo se noi adesso cadiamo in un nuovo medioevo io non so quanti millenni ci vorranno poi per uscire perché la gente che agisce magari sai il vecchio feudatario c'era imperante il cristianesimo ma in un mondo completamente secolarizzato dove non si pensa più a nient'altro che la materia dove l'idea suprema di Dio sembra una cosa non vera eccetera quale sarà la fine del nostro noi ci troviamo veramente ad esercitare in un momento in cui andiamo a votare un qualcosa di una responsabilità enorme ed è per questo che la mia venerante età di anni 80 io sto girando l'Italia in lungo e in largo e non devo fare carriera politica e non l'ho mai fatto figuriamoci se ci penso a quest'età quanto ci si ritira dalla politica ma perché sento nel mio animo che i miei connazionali stanno per vivere un'epoca veramente difficile e non solo i figli e i nipoti miei e tutti i miei nazionali ma tra poco perché ci stiamo avvicinando alla fine quando abbiamo finito di svendere l'Italia l'Italia non è infinita l'Italia è piccola quando abbiamo finito di svenderla quando non sappiamo più come fare per pareggiare il bilancio e ci gioca molto anche la Germania la quale dice dovete fare l'austerity e dovete fare il pareggio di bilancio che il figlioccio di Andreatta Monti della Bocconi ha messo in costituzione sarebbe la prima cosa da togliere dalla costituzione noi finiamo veramente veramente male ma non vi voglio lasciare solo con un'idea triste vi voglio dire ed è questo il motivo che mi spinge a parlare a voi e vi assicuro sto girando l'Italia in continuazione con i rimproveri di mia moglie all'orecchio non potete immaginare quanto si è arrabbiata mia moglie perché per il fatto che è stato girante e sono a questa età dici dovresti stare più calmo eccetera ma io rispondo a un interrogabile bisogno interiore mio che poi corrisponde anche ad un articolo della costituzione nella costituzione c'è risposta a tutto anche al mio stato d'animo articolo 52 dice della costituzione difendere la patria è dovere sacro del cittadino noi dobbiamo dobbiamo tenere sempre questo e difendere la patria in questo momento significa innanzitutto dire a Renzi caro mio sarà in buona fede la buona fede si presume noi te la diamo non vogliamo sapere altro ma guarda che stai facendo delle grosse sciocchezze stai dicendo delle grosse menzogne e noi la tua deforma costituzionale sulla quale tanto tieno con piena coscienza risponderemo all'unisono no grazie giudice Paolo Mandadena c'è qualche domanda dal pubblico per il giudice una domanda molto breve di una cosa di cui non si parla lei prima ha fatto il riferimento al Cnella praticamente al Cnella non se ne parla io ho visto praticamente i sostenitori del C lo diminiscono un ente inutile costoso eccetera però se sta in costruzione qualche funzione ce l'avrà allora io vorrei visto che dobbiamo anche avere un rapporto con i cittadini dovessi fare qualche domanda avere un chiarimento sulle funzioni che prende il Cnella e sulle conseguenze della sua abolizione grazie a me duele molto non parlare bene come vorrei di tutte le istituzioni però devo riconoscere che per la mia esperienza il Cnella è un ente inutile e il Cnella risente molto poi dell'idea fascista di tipo confederativo delle corporazioni il Cnella dovrebbe essere il luogo in cui i lavoratori e i datori di lavoro si incontrano non ha funzionato non è colpa dei funzionari dell'Enel dei presidenti che hanno dei lauti guadagni poi insomma ma in mente inutile quindi purtroppo su questo guardate che nella cosa di Renzi essendosi 47 articoli proprio per la legge dei grandi numeri qualcosa di buono ci sta non è che sia proprio ad esempio il fatto che si inserisce di nuovo l'interesse nazionale è positivo noi l'abbiamo ricostruito con le sentenze della Corte Costituzionale perché dire che non esiste l'interesse nazionale esiste solo l'interesse regionale significa dividere l'Italia in 20 regioni insomma sono delle cose sballate nel titolo quinto che ci ha dato Bassanini e poi il fatto la clausola la famosa clausola mi viene in mente adesso la famosa clausola dello Stato sui poteri delle regioni quella è una costruzione che saggiamente avevamo fatto noi alla Corte Costituzionale io ero lì da un anno la scrisse la sentenza a mezzanotte un avvocato molto bravo un professore molto bravo tal quale dissentivo solo per il fatto che era berlusconiano che ci devo fare però devo dire un gran signore e la scrisse molto bene fondandoci sul fatto che l'articolo 118 della Costituzione adesso non mi ricordo se è 117 questo era interessante quindi lo voglio lo voglio dire questa Costituzione come è sottolineata è vissuta è vissuta è vissuta 118 118 118 ecco dice le funzioni la Costituzione che Renzi vuole modificare dice le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province città metropolitani regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza cioè dire dice che le funzioni amministrative in via di principio sono dei comuni questa è una delle fantasie di Bassanini io quando incontrai Bassanini erano i tempi della legge Galasso collaboravo con Galasso con la legge Galasso non mi ricordo più dove ma insomma ma pranzammo insieme io dissi Dio mio se questo fa carriera questa rovina l'Italia in realtà lui ha scritto le sue cose che a me sembrano fantasiose sulla gazzetta ufficiale perché aveva il pieno consenso di D'Alema segretario del PC e quindi lui ha fatto tutto e ha scritto questo l'architettura è che i comuni hanno tutte le funzioni amministrative però per fortuna che ci ha messo questa cosa salvo che questo è molto importante dire per salvaguardare per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni che il comune ha funzioni limitate al territorio comunale per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni siano queste funzioni amministrative attribuite non si sa da chi però è chiaro che è stesso lo Stato che le prende che se le prende che qui fa una cosa le città ma tributano regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà cioè praticamente la sentenza del 2003 la sentenza numero 3 del 2003 firmata mezzanotte e c'è anche la firma mia come componente abbiamo dato un'interpretazione importante di questo primo comma dell'articolo 118 cioè abbiamo detto siccome non si vuol parlare di interesse nazionale noi abbiamo detto quando la questione non interessa soltanto gli abitanti di un comune ma gli abitanti di molti comuni o addirittura tutto lo Stato lì si trattava poi della legge obiettivo alla quale poi ci teneva molto mezzanotte io sulla legge obiettivo avevo tutte le mie riserve che mantengo tuttora quella famosa di Berlusconi e insomma effettivamente non è che si può dire io faccio una strada o una via ferrata da Palermo a Trieste è la competenza delle regioni ma insomma bisogna dire che in questo caso niente decide la comunità nazionale l'opera è talmente grossa che è di interesse nazionale tuttavia in quella sentenza noi fumo attenti a mettere una cosa siccome però le regioni hanno il governo del territorio noi dobbiamo fare un tracciato che non disturbi il governo del territorio delle regioni e quindi bisogna fare un'intesa con le regioni secondo il principio di sussidiarietà sussidiarietà è l'aiuto il sussidiario che tenevamo a scuro una volta cioè lo Stato viene incontro ai comuni alle regioni eccetera dice guarda io faccio io tutta l'opera e la pago pure però io chiedo a te regione che ti devi occupare del governo del territorio quindi della tutela anche del territorio chiedo a te che tu mi dia l'intesa su questo percorso che io voglio fare quindi credo che noi avevamo risolto le cose su un piano veramente sostanzialmente giusto lui che fa adesso Renzi dice no quando si tratta di cose del genere decide lo Stato ma no insomma non puoi dire ma io l'ho preso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale diceva ben alto rispettava le competenze regionali in un quadro di rispetto delle autonomie tu mi vieni a dire io faccio quello che voglio io faccio quello che voglio quindi non mi importa se attraverso il Monte Bianco se il Monte Gran Sasso se rovino le foreste se faccio questo decido io insomma questa è una di quelle cose da tenere presente insomma qualcosa di buono dicevo c'è ed è l'interesse nazionale però il modo con cui si realizza questo è molto discutibile secondo me era meglio lasciare a proposito di interesse nazionale questa norma che la Corte la giurisprudenza della Corte Costituzionale che in un certo senso fa legge aveva già già fatto già chiaro c'è un'altra domanda da una ragazza se può scegliere meglio perché appunto la riforma costituzionale quindi la centralizzazione dei poteri sia di aiuto al progetto del neoliberismo no no non ho capito perché la la riforma costituzionale e quindi la centralizzazione dei poteri sia a sostegno dei progetti neoliberisti non mi è chiaro non so come potrebbe aiutare beh e nella definizione del neoliberismo se lei si legge gli scritti di Euken di Hayek di Milton Friedman trova che loro hanno teorizzato che l'accentramento della ricchezza nelle mani di pochi giova a tutti è falso risposto Bohman ma quando mai è che aumenta la ricchezza nazionale i fatti li smentiscono e noi stessi li smentiamo si è cominciato a parlare della crisi attuale come di una crisi ciclica come di qualcosa che c'è disoccupazione specie giovanile sì o no o me la sono inventata io chiudono i negozi o me lo sono inventato io se voi viaggiate sul treno vi accorgete che ci sono migliaia e migliaia di industrie abbandonate di capannoni abbandonati è vero che non abbiamo più l'intervento dello Stato nell'economia perché ci viene vietato dai trattati è vero che noi abbiamo col passaggio all'euro abbiamo perso un potere d'acquisto enorme è vero o non è vero che noi non possiamo svolgere attività di sviluppo che noi addirittura siamo stati privati della politica economica Renzi non può fare una politica economica perché non ha soldi e se fa altri debiti fa i danni delle generazioni future se adesso per vincere il referendum fa qualcosa come la distribuzione di 80 euro cose analoghe lo fa indebitandosi ancora di più nel futuro ottenendo con la preghiera ad Angela Merkel che si faccia un po' di flessibilità perché lui si faccia della propaganda elettorale ma sulle spalle nostre perché poi la dovremo pagare noi in maggior debito noi siamo in una trappola ci siamo messi in una trappola dalla quale dobbiamo uscire adesso stasera io non vorrei affrontare il tema dell'euro vi dico solo che io sono a favore della Unione Europea nel senso che mi rendo conto che in un mondo globalizzato guardate è globalizzato quanto ai capitali ma non quanto ai popoli e quanto alle nazioni i popoli nazioni sono e devono per diritto lo dice anche Papa Francesco in Laudato Si essere diversi perché la grandiosità del creato sta nella diversità non è che noi dobbiamo essere uniformati essere tutti americani e fare tutte le marionette o essere tutti come i cinesi insomma ognuno deve avere le sue caratteristiche personali però è necessario in questo mondo in cui ci sono aggregati umani stati molto grandi pensate la Russia quanto è grande la Cina gli Stati Uniti eccetera e gli dico dovremmo fare gli Stati Uniti d'Europa questo allargamento a est è stato un po' discutibile addirittura si è detto di fare entrare la Turchia ma il nostro pensiero con quello turco a poco a poco specie con Erdogan adesso poi non se ne parla non se ne parla proprio più io sono per gli Stati Uniti d'Europa salvaguardante il più possibile la cultura comune che ci accomuna perché Mazzini diceva dopo la giovanità deve venire la giovanità in Europa quindi e poi Ventotene il manifesto di Ventotene Altiero Spinelli Ernesto Rossi tutti questi hanno detto le cose giustissime quindi assolutamente sono per l'Unione Europea però per questa situazione che si è creata per questi manovratori che esistono in Europa i quali ci spellano e fanno in modo che sia agevole produrre e investire in Germania mentre invece non è agevole produrre in Italia perché guardate poi c'è c'è un fatto molto semplice e molto comprensibile in realtà l'euro è un marco svalutato che favorisce le esportazioni tedesche ed è una lira sopravvalutata che invece impedisce all'Italia di esportare insomma noi non ci abbiamo più la fietta se n'è andata facendo un'azione antisociale perché guardate che l'opera di Marchion è giuridicamente riprovevole sotto tutti gli aspetti giudici si reclamano il palco c'è un'ultimissima domanda e poi dobbiamo cedere due velocissime domande la prima la accennava alla fine lei ritiene che la corte costituzionale italiana a fronte del diritto comunitario e dei trattati abbia sottovalutato l'impatto riguardo le fonti originarie cioè quale compatibilità c'è tra le norme costituzionali italiane e i trattati e se c'è stato da questo punto di vista un limite di intervento la seconda è cosa ne pensa diciamo delle nuove forme di democrazia municipale cioè le forme in cui i cittadini per esempio romani vogliono decidere in prima persona no quali forme debbano avere devono assumere i servizi a livello locale ne faccio riferimento uno solo i beni comuni il patrimonio comunale ritiene che modificare lo statuto comunale come atto normativo autonomo introducendo l'obbligo di consultare i cittadini in modo vincolante riguardo all'uso di questo patrimonio sia un modo per avvicinare le nuove generazioni alla tematica dei nuovi le nuove forme di democrazia diretta va bene cerco di rispondere rapidamente perché dobbiamo lasciare l'aula la corte costituzionale da molti anni ha creato la teoria dei controlimiti cioè a dire i trattati per i trattati i trattati prevedono che il diritto comunitario entra direttamente nell'ordinamento italiano però un giudice può sollevare la questione della incompatibilità della disposizione del trattato con la nostra costituzione e la corte costituzionale può dire che essendo quella norma del trattato in contrasto con la costituzione soprattutto con i diritti umani tutelati dalla costituzione quella norma non può avere ingresso nell'ordinamento giuridico italiano teoria dei controlimiti quindi bene la sua domanda precisa la risposta poi la democrazia municipale è proprio quello che ci serve cioè noi dobbiamo partecipare alla gestione della cosa pubblica con criterio di sussidiarietà sussidiarietà non solo nel senso previsto dalla legge comunale e provinciale a favore delle decisioni del comune ma anche nel senso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della costituzione cioè anche contro l'azione attraverso anche un'azione giudiziaria perché l'articolo ultimo l'unica cosa buona del titolo quinto della costituzione a mio avviso forse ce ne sta pure un altro ma comunque l'unica che ricordo come norma buona della riforma Bassanini del titolo quinto della costituzione l'articolo il comma 118 l'ultimo comma dell'articolo 118 dice i cittadini singoli e associati possono svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà se il sindaco sbaglia lo si può portare in giudizio impugnare la delibera per esempio davanti al TAR proprio come parte della comunità adesso per fortuna dopo il porcellum l'annullamento del porcellum da parte si è aperto un varco perché dovete sapere che il nostro codice di procedura civile informato ai principi individualistici dell'attuale neoliberalismo e della vecchia borghesia perché quella è una continuazione della borghesia dice l'articolo 100 del codice di procedura civile nessuno può agire in giudizio in nome proprio e nell'interesse altrui quindi ognuno la famosa frase che mi hanno ripetuto tu fatti fatti i tuoi no? che cosa è? invece no vale il principio romano in cui il cittadino il civis il cittadino è parte della comunità e come parte agisce senza obbligo di rappresentanza nell'interesse proprio e nell'interesse altrui se si tratta di beni comuni poi quali siano i beni comuni? i beni comuni sono quelli che appartengono a tutti i beni che appartengono nel privato non possono definirsi i beni comuni come i colleghi miei sui beni comuni spesso vanno ripetendo dobbiamo fare in modo che siccome si è privatizzato tanto e che si faccia un'operazione inverso cioè che i beni privati che sono di interesse generale il lido del mare l'opera d'arte eccetera rientrino nel patrimonio comune di tutti allora li possiamo difendere come roba nostra ecco questi erano credo grazie a tutti grazie Andrea scusami grazie 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 grazie